Metti una famiglia di nutri a Rivabella, i roditori originali del Sud America proliferano lungo il corso del fiume Adda nei pressi della frequentatissima pista ciclopedonale importati per allevamento in Italia negli anni 30 allo scopo di realizzare pellicce, questi animali ora si sono diffusi ovunque perché non devono fronteggiare alcun predatore le immagini che vi proponiamo sono state fornite da una telespettatrice Proprio in questi giorni, di cara all'assessore all'ambiente Alessio Dossi, ci vedremo con i comuni del lago per definire il protocollo d'intesa che porterà alla sperimentazione della sterilizzazione delle nutri. Puntiamo la sottoscrizione nelle prossime settimane in ogni caso, prosegue l'assessore, tranquillizzo la popolazione, intendiamo intervenire per limitare il proliferare delle nutri ma al momento queste non rappresentano un problema di carattere sanitario o un pericolo per le sponde del lago Il Comune di Lecco, conclude Dossi, farà la sua parte con questa sperimentazione ma il compito di procedere in materia spetta sempre alla provincia rispetto alla quale noi facciamo riferimento